su un nuovo video raga oggi finalmente raga andremo a provare warzone insieme raga lo so magari che momi aspetti un po di persone che dicono devi fare warzone deve portare warzone raga a me come gioco mi piace l'ho installato adesso sono peggio di qualsiasi persona che avete mai visto giocare a questo gioco ho fatto qualche chi mi sono passando il pack rega del ps basi infatti già due guerrieri siamo chiamati come volete voi a questi due niente non so che oggi si doveva essere reali episodi di gta raga perché dovete sapere che si arriva tutto intorno a un milione e tre ragazzi e dovevo portare un video di gta raga oggi ho deciso di portare warzone raga il nostro primo video di warzone raga non sarà una serie quindi i code non sarà una serie raga quindi non è che faccio sempre episodi però un'altra cosa che volevo dire raga stanno arrivando anche video di pokemon c'è sto comprando pian piano le bustine per portare avanti pian piano la playlist cioè la serie niente raga scusate se magari a volte sui pokemon c'è il tappetino che non c'è zecca niente però quella del tappetino non lo so per poggiarci le cose sopra sempre la tastiera il mouse queste cose qua raga vi volevo dire un'altra cosa che mi sono scordata è la pelobby raga volevo dire che mi sono scordato di dirvi che su gta non mi ricordo se l'ho detto vi avevo detto che tipo nei episodi vecchi dove dovevo portare tipo una serie su gta raga ma nella storia per un online tipo quello nella storia raga non la farò che se mai molti di voi se non mi sbaglio l'avevo detto comunque se non l'avevo detto raga non la farò allora sono materate a caso raga devo ancora capire molto allora raga non so se l'audio è forte mettimi nei commenti se è forte allora raga io cerco di non tagliare ovviamente perché vi faccio vedere con me il riscaldamento è finito schieramento imminente nella zona di guerra questo fucile va bene rega per noi che poi oggi ho fatto qualche partita ragazzi al livello 4 a nevo da andiamo che allora raga dove c'è andiamo gas in avvicinamento rapido andate nella zona sicura ed è strano ma isi raga cioè io ho fatto qualche partita di squad riempi ma vi dico che sono scarsissimo raga non vi aspettate che ora vado la prendo un'arma e vinco capito ho fatto la partita di me con raga non vi aspettate che faccio 10 kill anche 4 kill già andando che faccio una kill raga perchè ancora devo capire tutto il procedimento di warzone io torrò qua ecco io non voglio pushare raga che il push non sono morto togliamo il paracoluto sono morto cioè prendiamo il paracoluto sono morto cioè prendiamo il paracoluto se raga se no faccio una finuccia sta roba si può prendere il mio non lo so passagli nell'area operativa si è terreno questo non c'è niente no raga senza lutto qua non c'è apprendimento no raga so sempre senza lutti io eh sto pistolino è di cinesi in mano allora cerco di andare da quella parte ecco guarda raga l'ho detto i rai l'ho detto ancora a capire un po' come ssssssss apposto si lega so che sono questi i quadri in porto sono quelle che c'è anche su forze regà apposto apposto cosa che da play ci metti tre anni per prendere una cosa che è molto quadrato la rega pistolina contro il pistoianno dammi qua via porta a casa c'è niente sta caso io gli utori che sono assolutamente ma c'è che a terra oh già te ragazzi ha preso come i cosiddetti scivettini no voglio camminare il pistoglio forse non è capito mi sa che il pistoglio non si può cambiare ah la parte 1 ok questi qua con me e questo qua rega praticamente uguali oh mio dio nella lettera ero morto allora dammi sta cassa questo è parte 2 un attimo che vedo si è parte 2 apposta tutti sti colpi rega scusate che non so magari voi sapete tutti non sono un cacchio però ho nezzato neanche un'ora fa un po generale c'è voluto c'è voluto se qualcuno mi commenti mi vorrebbe aiutare vediamo questa cosa cos'è mai o che consiglio rega sta casa è bloccata a vita nuova rega che faccio ho solo mitra o voi vi state giochendo ma perché cavolo non pucci perché sono un bot non c'è cosa un cecchino rega sembra il bot action su fortuna che c'è non è non è eh mi siete di rega vediamo come sta si è un cecchino assurdo che rega andiamo col mitra però noi non può fare niente denaro rega ancora non ho capito tanto che serve il denaro tipo solo per prendere le armi non so ancora tutto mi sa quando sotto la maschera non ti cassa sono da zona piena si mi sa di si adesso non c'è questo cosa è scambio no a me non mi interessa video dell'inserzione non puoi compirla no vado 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 comunque rega mi sono scordato di dirvi che ehm ovviamente so da youtube studio anche dal resto so come mettere le copertine che ci vanno nei video infatti se state venendo sul mio canale ho aggiornato tante copertine rega perché finalmente ho capito bene come si fa se volete rega se volete vi lascio sempre in descrizione o anche nei commenti il mio link se volete fare una piccola donazione rega che l'ho messo allora ovviamente rega però una parte ovviamente la e vado e vado e vado mh 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 ora l'ho detto lui prima vado tipo che stavo perdendo terreno rega quindi io sto coso guido io ma se sono solo io rega ma che cosa c'è gt5 rega no nooo rega stiamo giocando da gt5 su cod nooo ma c'è benzina c'è qualcosa non c'è niente ma ho guidato un aereo prima con due squad ah bellissimo cioè rega ma si investo uno con queste cose non si che voglio rumpirla se mi sa dove dice vado che cosa qua non ha capito niente eh non ha capito niente questo qua rega a posto cerchiamo di sbagliare assieme mi scusi secondo me non sapeva neanche il gioco stava giocando rega vi giuro che mi sono fermato a caso c'è questo qua no molti miei stanno chiedendo ma quante kill le fatti su cod rega non lo so prima ti avevo fatto non ricordo se la partita di prima comunque una partita ne ho fatta un'altra dopo ho vinto anche nel gulang quella cosa che portano in prison ho vinto nel gulang vignetore gulang ho mandato allora rega postile in discesa nell'area occhio in alto che ci sono gli uccelli volanti oh mio dio rega perché mi arriva una cerchina di cosa sono potenti forse con il barret rega no vabbè non so comunque rega vi ho dovuto andare anche aggiornati riguardo brustarts perché ho trovato non so se ve l'avevo detto ho trovato energetic e oggi rega è un genio in più con un account del tablet che tipo si chiama francesco rega ho chiamato il nome così ho trovato corvette rega corvette come si chiama il brawler è stata veramente una ieri sera ho trovato il 7 gennaio rega tra l'altro il mio compleanno aia eh non so da dov'era dov'era? non vuoi dire no rega eccomi nel gula io sono morto come uno scemo qui si devono corvaitare? in attesa dell'avversario eh non siamo tre anni vi stavo dicendo che ho trovato corvette e mi sono fatto il supercell con l'altra counter ovviamente con la stessa mail che sono andato dal mio allora rega a preparare a combattere io sono lo dico che qua dentro sono scarsissimo prima ho vinto un gulang ma no mio dio rega io vinci qui e ti rimandiamo in prima linea se perdi sei fuori gioco vanno fuori o conquista l'obiettivo eh vabbò sei uscito male ti riportiamo a tagli stavolta abbiamo perso ci ripariamo alla prossima e niente rega siamo morti anche nel gulang andiamo a quel livello livello 5 promozione rega non ho il pass battaglio poi ci vediamo un po' le cose che io così ecco io lo sei come cavolo mori una pochina rega te le faccio un volo allora rega io non ho ovviamente un oggetto livello 6 non ho tante robe le armi rega non me le lascio andare a vedere perchè stai così se il quale ho fatto io opposta rega calcolate che cod lo è stato guardate sono neanche un'ora fa non so quando uscirà questo video rega io sto registrando l'8 gennaio non so se esce oggi mi sa di si rega comunque dire che per questo video termina qua una partita l'abbiamo fatta è andata da me ma sti cacchi noi ci vediamo se riusciamo in un prossimo video che non so se sarà di misa di rega o di pokemon rega non vi so di niente perchè oggi volevo fare un video di gta uno speciale non è uno speciale ve lo dirò quanto farò il video non so il tempo che ho rega perchè come ho già detto col tiktok se volete seguitemi anche su tiktok e su instagram name explorer r719 mi sono scordato rega sempre che mi confontevo sempre su instagram con la grande explorer no è piccola quindi su instagram con messa grande già da tanto tempo fa mi sa e poi rega niente vi lascio sempre il link di donazione se volete fare una piccola donation in descrizione oppure nei commenti il video di minecraft rega la serie mi ha aiutato anche Massimo mio amico ma la farò avanti farò vedere come è venuta non so da quanto tempo perchè rega io sto devo portare qualche video sul canale non so quali ma devo portare altri video perchè rega io confermo rega la stagione di minecraft la farò la seconda stagione ho già aperto il villaggio sto facendo nuove robe rega io direi che il video termino qua grazie su televisione mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi noi ci vediamo in un prossimo video che mi sa che sarà di gta non lo so può da si pure rega che gta il plus l'ho fatto per 3 mesi non vorrei che mi è scato rega non penso non so che video sarà può da si pure che di bro stars rega non lo so di forza di salvo mondo di nuovo di cod rega non si sa comunque io come ho già detto su cod continuare a giocare perchè rega mi piace come gioco soltanto che sono un po' esagerato come prezzo 10 euro mille e quattrocento gettoni che non ci fa un cacchio c'è manco il passivo prendere io dico almeno 10 euro il poste lo puoi prendere no vabbè allora rega niente io non so ma mo me la fa l'altra partita oppure ha detto il video niente rega non ci vediamo io ovviamente farò altri progressi o tutti i giochi e pro stars perché rega ogni giorno che magari se oggi non porto video sapete che io su forza davanti pro stars vado avanti in senso tutti i giochi vado sempre avanti quindi quindi sapete cosa intendo che niente rega non ci vediamo al prossimo video spero rega che sarà sempre questa settimana prima della domenica perché insomma questo che avrei ha registrato venica niente rega niente rega